Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Michelle Luntziker, Tommaso Trussardi l'ha dimenticata definitivamente Avete visto con chi è stato beccato il famoso imprenditore di moda? Lei è bellissima, il sogno di ogni italiano Ve la presentiamo.Michelle Luntziker e Tommaso Trussardi.Ormai Michelle Luntziker è acqua passata per Tommaso Trussardi L'imprenditore di moda è stato beccato in dolce compagnia. Lei è una donna bellissima, tra le più affascinanti d'Italia Tommaso Trussardi dimentica per sempre Michelle.Ormai si può considerare definitivamente archiviata la storia d'amore tra Michelle Luntziker e Tommaso Trussardi Dopo l'avvio definitivo annunciato con un comunicato stampa lo scorso 18 gennaio 2022, l'imprenditore di moda e la conduttrice svizzera hanno separato per sempre le loro strade Unziker e Trussardi.Mentre lei sembra impegnata in una relazione sentimentale, mai ufficialmente confermata, con il medico Giovanni Angiolini Lui per un po' di mesi si è gettato solo a capo fitto sul lavoro e sulle figlie ma, a quanto pare, anche per l'imprenditore di moda il sole è tornato a splendere Avete visto con chi è stato beccato? Trussardi si è mostrato in dolce compagnia di una donna affascinante Lei è bellissima, tra le più sexy d'Italia.Non solo la bellezza l'ha reso famosa ma anche il talento La dama misteriosa è un volto noto del piccolo schermo. Ve la presentiamo L'ex marito di Michelle beccato proprio con lei.Tommaso Trussardi volta definitivamente pagina Dopo Michelle Unziker torna a sorridere.Avete visto con chi è stato beccato l'imprenditore di moda? L'ex marito della conduttrice svizzera si è mostrato in dolce compagnia di una dama affascinante, Federica Masolini Federica Masolini.La conoscete tutti.La giovane giornalista sportiva è un volto noto del piccolo schermo Appassionata di gare automobilistiche, è cronista di Formula 1 per Sky Sport La passione per lo sport è un'eredità di famiglia, è il padre che le ha trasmesso questo interesse Federica Masolini abita a Milano.Dopo gli studi alla Cattolica ha iniziato a collaborare con alcuni giornali e Sky oggi è la sua seconda casa Federica ha iniziato uno stay nella nota emittente televisiva nel 2007 e attualmente è una delle giornaliste più amate e seguite del mondo sportivo Solare, divertente, ironica ma soprattutto bellissima, Federica Masolini è il sogno di ogni italiano Ci crediamo che Tommaso Trussardi abbia perso la testa per lei. A proposito dell'ex marito di Michelle Luntziker, che cosa c'entra con la Masolini? I due si sono mostrati insieme in una foto che lascia pochi dubbi, un nuovo amore sembra essere sbocciato Proprio Federica Masolini ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la vede insieme a Trussardi, in una macchina guidata dall'ex marito di Michelle Luntziker A quanto pare, Trussardi la stava accompagnando alla redazione di Sky Sport Progetti comuni da condividere o l'inizio di un nuovo amore? I due, bellissimi e sorridenti sembrano affiatati Che ci sia effettivamente del tenero tra di loro. Per il momento non è dato saperlo ma i fan ne sarebbero felici, Tommaso e Federica sembrano stare davvero bene insieme Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video